Porca nocchie! No! No! Quest'acchina andava proprio no! Leggiamo a 7.35 e a sette mesi in punto dove avessi il ricovero di avversi. Non è possibile che sia sempre in realtà. Ma anche adesso che in ultimità che il giovane, che è il presidente del ricovero, è un mio uomo una volta arrivati a trovare. Mai, mai, mai! Trici mattini, anche una volta. L'altro è arrivato che è un quarto di volta. E la mia madre è un po' più piccolo. E la mia madre è un po' più piccolo. Faccio il cuore! Ma che sembra che sia solo una volta arrivata! Ma Giovanni! Ma ho deciso di farmi mangiare a confesso la cosa! No! E la mia madre è una nuova campagna e la mia madre è un talento. L'estai una, salta su, non neanche, non neanche ne aveva fatta. Ho messo la socca d'acciola del pigiame e avanti tuttavia avessi lo spizzi. Arrivi in piazza. Allora davasso il cantone un crapone, insiste su. Oh, io ho tenuto. Non devo aiutare ma speseva. Chissà che era una macchina. Chissà se cammini sarà adesso. Voilà, passa davanti. Sì, buongiorno Giovanni. Ma non c'è di bello. Dalla rabbia che gli aveva l'osso, le gnocche stai guardando a smirare il mucca. Ma, ma Giovanni, ma te lo riesci a chierare la tua pesa? Eh? Sono andato al cassino, andato a grigliare un malato. E la Bibbia. Di stamattina che sei venuto male. Eh? Che vorrei arrivare là un po' presto. Perché vorrei ringraziare i culoni per tutto il bene che le fai per il ricovero. Che sentiremo tanto la sua mancanza e le sue riprovi. Oh mio, andate a più sguardo come andare a bicicletta. E adesso va finire che credo. No. Comunque, se la vai a vedere la vai. O nega. O russo. O bianco. La vita del ricovero la va in casa. O leggi è un po' di che vanno a passare tra la piazza e il ricovero e il ricovero la piazza con un grampo. Perché sempre una sigaretta e bucca. Si, con la tra lega. Si, un che porta sempre il caffè come il muro da cucurino. mi sono mai buono da capire se lei capisce o se lei è proprio il suo muscolo beh, la puraria non, che il fils d'avessi mandato da un paio in una barbe per conto lei non mi metto, lei no eh, no, mi, la cittaria mai mi è una roba insì mi, avessi mandato un paio d'Argelia, ma piuttosto a voi c'è un nome di mio c'è comunista prima da capire e me ero qui in sé che cercherò e adesso c'è fu adesso c'è la bicicletta che sbattola da lì la strada e non c'è niente che non c'è la ciappina e non c'è la ciappina e non c'è la ciappina oh, ma tasegna, mi ha fu preso mi ha sbattato da lì la strada intanto la regatina d'Alpinela e mi ha gestionato piano se è da voi non c'è la ciappina 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 oh, figlie, io sono a posto ma che mi arriva la d'Agnese ma ci non c'è la ciappina non c'è lì la ciappina non c'è la ciappina ma ciappina ma ciappina è quanto c'è lì la ciappina non c'è la lì la priglia ma è forse a due gini Ma si chi è che hai dato un po' di più importante stamattina? E' stato un po' di più. Adesso dico una volta che abbiamo un po' di tempo ma stasso un po'. Candela mi aggavrì alla velocià che ho mai arrivato in un'età che... Ma sono come dire? Bene. Siccome abbiamo un po' di tempo via la doccia io riesco a spargare. E' una bella coppia. E' stato proprio per l'insella. Agnese, ma che non tenne il nostro inspiro? E' l'onore che l'ha fatta finne e mi è subito in cura a queste due hanno capito chi è che gli ha capito. Ma questa strage dunque? Che devo andare a ricordare della mossa? Che con la povera cinza la vagevano dei sedrusari? Forza dunque! Oh miei non voglio! Per la possibilità di cura a capire. Asciamo via a parlare alla velocià e al sorenso. Al merenso! Il mio pupillo come la sua Lucia! Ma... ma da qua! Ma lei mai consegna una roba da genere? Oh signor sul cura! Ma sei là che penso lui! Mi diceva la sistemai sui fiori. Insomma, la spusei. No, cap'è da me, certi! Che smurroso per tenciam! E' un po' più secco per tolto! Vumane! Vumane! Vumane Agnese! Chi è senza peccato scagli la prima pietra! E' lei gratuita insomma questa è Cipu! ed è il mio uomo! E' un po' più secco! 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 Insomma ciò che ora hanno fatto dire che stanno proprio bene insieme. Ma no, ma mi parli di insieme, terra a terra, di soldi, di Danè a Gadotte. Di soldi? Di Danè? La Santa sta in due campioni. Loro è la strage per Sveglia che il mio povero Luiz le va proprio per un po' per la sofferenza. E' tutta l'argenteria da mia povera mamma. Un paio, fino a 15 anni, ricavava un disuore d'asilo. E per parlarti, un libretto della banca, tra me ci scena, 150 mila lire. 150 mila lire? Ma se c'è questa situazione, ma mi sono d'accordo. Anzi, fumo il contratto, c'è la mamma. A me ci sono più raro, via la speccia, in cui tutti stanno a camea. D'accordi? D'accordissimo. Sia lodato Gesù Cristo? Ma sempre sia lodato. E fra un attimo, a tutti i li dariè i due terputori e i suoi punti. Fai a dividare i due perdipiedi del criso e dal tiradretto! lei dà un botto e mezzo e non sono ancora pervertiti in questo luogo pervertiti o pervertiti? no no pervertiti e più o meno ieri per la nervosità che c'ho addosso gli ho mandato in paese a cantarmi la donchella e ci avevo voglia di divertirmi un botto oltretutto sono a casa un nominato che mi attende ah che gente oh eccoli là che stanno pervertiti ma come sono di bella che perdono adesso mi renderanno di come Griso Griso dov'è la scarnietta? sui padroni delle belle, buoni e bianchi ma basta qui padroni senta ma che la buca che la spessa come la tua lei no a colpa mia ma mi ha trusato proprio da partire e non mi ha provato di venire in giro che avevano in maco a tarpeona da pechi che ne avevano in perata che si ne piaccia e la niese che la devo ammarcare siete degli incapacità quando dico una cosa voglio che siete qua se non l'avete trovata dove va della perla la poltola del signore si è un po' di soltare male anche questa sceleratezza sarà messa in conto quando giungerà la tua ora e le fiamme dell'inferno ti bruceranno lentamente ma mi raccoglio ma Cristofo come si permette va di fare le sue scuriate e le pechini e chi ha paura della vita e non si permetta più di sparlarmi i costini di fronte ai miei due per di pietro a me delle sue cose me ne faccio una parte io qui sono il padrone faccio generale verrà un dì che purando tu ti ritroverai vecchi e ma cucco a pagare la notte la lingua su lingua per votare del tuo castello per fare la ricerca di un'anima che tenda un'anima e null'altra consolazione avrà se non la morte della vita e ricorda nessuno nessuno verrà mai a portare il fiore e a versare una lacrima sulla prodotta nessuno nessuno vai in retro frate non mi sento più dire una sola parola verso la mia suprema persona se no non faccio cambiare io i tuoi potenti altri ospiti no 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 grifo aggancialo via nessuno ricorda nessuno la mia partita che è un quadro aggambata di una parola a mezzo la mità e ai carvioli laci il continente il 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 Abbiamo deciso di prendermone. E che vieni sul padrone? Ma no. La tua ignorantigia non ha mai avuto la prima pressa. Questo è il pirale che fosse mai stato. Dicevamo noi, ma intendevamo la ricordazione. Fammi una lista delle nuove vite del paese. Sotto i 25 e sopra i 30. Per i vizi del padrone! Ho più conto l'istuato, no? No, per l'u... per l'u... da battaglia, da popolire. Vorrebbe io una ragazza seria, bella, dura, che si addica alla mia battaglia. Beh, allora, seria... dunque. Cula lì? No. Cula là! Niente. Cula lì? No, cula lì le vengono alla sua maestà. Da chi è che so? A questa mia, la Fiora Taniese, Lucia Montella. Non mi interessa, non mi interessa. Fai tutto te. Ti do cartolina bianca. Vai dal dolaboglio e fissa il matrimonio. Anzi, no. Spicciolo qua. Chi è andato di rimessa al ritorno. Tu, mettiti d'accordo te, per l'ora e per il Dio. E che la cerimonia sia montuosa. Ma non lo sarà. Ma sono in tuora. Non so, in tuora. Vabbè, non ti apriamo la letta, c'ho pressa. Io vado. Ehi! Buona sera lì, non c'è! Ma è così? Ti ho pensato a far fare di vivere da me, dal padrone? Perché? Si conferma. Ma come siate confermati? Allora ti provi a capire niente, perché tu non lo fai. Ma la ti dici? Un capire. Ehi! E' un po' tua. E' un'azienda. Un'azienda. E' un po' di più. Ehi! Ti provi a capire niente. Va! Tassi, 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 te l'hai in fondo che mi ha detto la voglia. E tu non mi metti a sdacò che qualcuno viene a fare. Tassi, eh! No, no. Sta pure tranquillo. Qui? Voi? 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 Io non mi fai niente al marco. Oh, no. Non mi girai in tre, mi scavo lì. E se mi scappa qui, hai buon da pure madre e la situazione è la peggiore. Oh, no. Ma sì, dunque. Ma, 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 Adisi, un po' di rispetto ci vuole, che diamine. Solo per la mesta che porto. Oh, no. Oh, no. Senta, hai che non devo fare forza. Appunto, fanno quella... Streccia qui e cammino. C'è così un momento che vorremmo parlargli? Dicano pure, ma... Ma siete sicuri che sono io la persona che cercate? Oh, no. Aspera, aspera. E' tutta la vera. Anche la persona sola, ragazzi. T'ha pure voluto lì. Cosa vuoi dire a stessi? Cosa vuoi dire? Il nostro eccellentissimo ciur padrone Don Rodrigo... Don Rodrigo... Abbiamo deciso di sposarti. Ma le paura che ti ha mettevano la testa a posto. Vi ne capi niente. Questo è un pluralibus maestate. Dicevamo noi, ma intendevamo me. Cioè lui. Scusatemi eh, ma io... Non ho capito niente. Don Rodrigo ha il mio sposetto. Oh, prima non è. E chi è che la sarebbe la sposetta, eh? Che due mattina la dubbino ma subito. Una bella cerimonia... Un bel Disney... Ed è a posto in ca... Dunque... Stai attento. La scusa... La sarei... Lucia Mondella. Lucia Mondella! Perché? Ha che qualcosa armato? Si... No, no... Si... Sarebbe un impegno che però... Oddio... Potrebbe... Potrebbe anche essere rimandato, eh? La sarà mia già mua impegnata con un quinto indato, eh? No, no... E che cazzeria con me? Eh, no... Eh, no... Questo... Questo non posso dirvelo. È segreto professionale. Però... Se proprio insista... Comunico in maniera... E tra l'altro che diga, eh? Ma sono attragato... Che diamine? Già, tra l'altro che... Però no! Eh... Lorenzo... Lorenzo... Tramaglino! Caltegna da me! Questo matrimonio... Non sa da fare! Né ora né mai! Se no... Vita è il gardioso! Ma non va capì? Ed è scarpaia! E che ho pensato ne ho fatto cosa per la cerimonia! Ma non va capì? Non va capì? E questo생 non sia la... Ehi! 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 Ma che non è che io ando all'Agnese... E dico una roba d'angzinha, ragazzi? Ma sì che devo fermi? Ma che è già la mia capita! Ma, a me pisco la panna. Ah sì! Go! a poi venire a scappare la buscanora a me no, ma si che dice ma il signor andrà bene una banca di armi ma che tu pare che non vengono ma dite a me, dite a me dite a me ciao Lucina, ti arriva anche domani patente, adesso ti giuro patente si capisca, eh circa da notte è una vacata come il sol ma che? a che idea che arriva il penso? insomma mamma, questi matrimoni così combinati tutti d'un colpo non ci siamo nemmeno conosciuti ehhh, ma che ballare è questa qui? ma quel più ci vuoi che si sortisse ma si mamma, due o tre volte ma cosa vuoi che ci si conosca trovandosi due o tre volte e poi chiamano incontri con te dietro d'un appoglio che spiava della canonica e tutta la piazza piena di gente mai neanche un attimo da soli oh, ti inculgere a fare tempo stupendo di stare insieme da vedere qualche signor fila e dite a capire te da guardare la televisione e in visibola risulti mamma, la televisione non l'hanno ancora inventata oh, signor Lucia ma cerca da capire il volo e poi ti senterai la sera o anche sapere il padre ma ti senti l'interesse di dire il successo che succede ma la pasta è facile e il corpo è già passato oh, signor Lucia oh, signor Lucia cerca da tenda bene questi sono gli insegnamenti di tua mamma nel giorno del tuo matrimonio cerca da tenda bene per sempre ma sì mamma però ti permesso entrare? ciao Renzo assieme a un proprio inglese piccente senta tutto il giorno senta tutto il giorno Lucia ma qui hai qualcosa da bene? allora Renzo io stamattina ho parlato assieme al tuo suo ragazzo e allora? si va lì oh, signor guarda pre-occupando anche tu t'apporti ma ti manda combinare la data questa bicicletta è una bella notizia ma che è che ti piace? a comprovi che vai a me a fine roba che va bene ma io sto composta così possiamo salutarci in modo un po' più intimo bravo bravo già vieni qui che stuma un bel basone a me la spaga passata ehi Anderda via la carta pali rapper mamma non tanto stavano facendo vedere l'omologio nuovo ma quest'anno è bella ma non è ancora inventato ma mamma cerca di capire su tutto il cuore e poi finchiamolo a questo matrimonio c'è domani grazie 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 Vioi, ma cos'è sì che è un cliento da quei gustosi? Oh, non chiedo parli che fino al biceo! Ciao, Fiori, combiniamo la data e vediamo cosa ci abbiamo tutti il permesso ai miei padroni, eh? Che roba, tutti il permesso! Ma il viaggio di nozze? Il viaggio di nozze! La paga ha già un po' e poi tra scioperi e caso integrazione ha anche proprio la febattoria, sì! Ma insomma, Renzo, faremo qualche sacrificio, però il viaggio di nozze mi devi portare! Pensa che l'ha fatto persino quella antirapia della Maria Rosa, che è andata sul lago di Garda! Ah sì? Ah sì? Bene! E ora lui hai affari mani, tu hai perduto la rabbia! Guardate, accogliamo in mente un giro! Dunque, al disney andou ma fell in duola romana caseta! Vedo, fai di disney, faccio fuma e fumai certi santuari! Dunque, a partisuma del santuari che la Madonna accensione! Per andou ma santana e la santa del fracurtala andou ma la Madonna del Campo! Vedo, andou ma la Madonna del Campo andou ma la Madonna della Bosta! La mia finitiva, eh! Vedo, andou dalla Madonna della Bosta alla mattina buon'ora e inti quattro ore, a Giacomo andou e Nina Robert al Ciancarlanda l'ora! Ma te contenta? Dai che te contenta! Ma sì, però io vorrei montare a Venezia, a Roma! Oh, signor Lucia, come te sbordi la Lucia! Pensa che vi col di là al mio cuore all'unice un'altra per digesa a mamminare un'altra vita a vicino a venire la piazza ducale che puoi stare anche lì a sanacara santero E lì, quando hai portato i barricchi sul perché qui è finissima? Eh! 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 Che maniera di manacrono? Se ricorda poi da stamattina che gli due vanchi chi per combina la data! La data! Ma, la data da quello? Ah! Forse porti dal merso di soccorra! Eh! Questa è un prezzo? Ma è stato aperti che qualcuno qui? Ma come tu dovrebbero diversi arrabbi? Eh! Eh! Alla pure! Assume la chiesa integrazione e fino a Martimicamera perché... Non è che non è buono, ma tu vado a tornare, ma se vado a tornare, che è che, lui, andiamo a dire, ma non potessi di più chi? Ah già, 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 adesso è venuto bene, non è che stamattina, tra chi ne va a prendere, tra chi è più sguardo la bicicletta, e mandai via di me in certi particolari, perché sono andata, e sono andata con il re al livello del diritto canonico, e adesso sono qui a posto a partire. Ma, che maniera particolare, assieme a noi abbiamo visto conti per cui particolari? Ma no, hai il nome del genere lì, hai un di altro particolare, e in diles neuf, cini fiori adesso, come la legge numero 755 dal Papa Giovanni Paolo Sicurio. E che legge legge? Che legge legge, che legge legge. Quibus forum, in progressios, ut facere dictatorum su. Primus error, conditio, corcatio, cognactio, ignactio. Quindi, secundum error, ligame, crimen, buttame. Convizio, eh. Convizio. Sostizio, equulancus, equinocchio. Ma dove conosci il pirata? Ma io capisco niente da solo Pinocchio. Ma, insomma, stavo venendo appunto a tradurlo. Vuol dire che, ma scusate, non si sembriscono la cascata, eh? Noi, facciamo di due, facciamo di responsabilità, eh? Siamo qui, sposateci. Sì, sposateci. Eh? Ma se dopo che voglio che reclama, eh? Chi è che vanno dei pasticci? Assumi! Assumi! Assumi che vanno dei pasticci! Perché, ha detto che c'è un po' di lui che reclama? Agnesi, che fanno dei cucchi che devono dire? Insomma, donna Bobbio, che cerca di farle cercare, perché se le mie figlie pensano che facciamo. Insomma, pagate il pedimento! Eh? Oh signore! E vieni a farlo che c'è adesso il pedimento! Eh? Stamattina che va niente! Davvero, per caso, parlai insieme a un po' di me. A che insieme a un po' di me che c'è di brutti dei da calavergia! Diciamo, eh? Diciamo! Perché mi? Alla mano in tua garcia vesti stai off! Perché? Su un buon tefè con chi è alta! Mi? Tase! Tase! Usano! No! Aspetta la metta su tutti i bravi! Le mette sei prima che ci fai! Ah! Vieni a farla di me! Vieni a farla di me! Alla! Alla con schiena di me di me! Dunca, le d'orlo grego col schiena! Certi no, ma sai neanche a far scherzerti no! Comunque, questo matrimonio non sa da fare! Ne riparleremo! E adesso cosa facciamo? Io! Avrei permesso una roba che mi diceva sempre un po' per la mamma! Che qualche ghe, qualche gheva da fare un po' in corso, ne andeva da parte! In che me spiega un po' per la mamma! No, no! Io ho paura! E' meglio non dire niente a nessuno! Sì, brava! Brava, Lucia! Mi si resta che un anno in caso mi cura qui, e sui tessi pianti i bravi, ti ha piaci! E mi non so che piaci! No! No! Mi sono ticca fresa! Ma Agnese, ma sai cosa vuoi fare? Dunca! D'altro, ha sì che ha gravato una, anche in quella nuca! Perché? E chi che sa no? La sua bimba è io! E ci dì la sapere non è io! Mi in duca! Mi hanno mai conosciuto il mio, e io salvavo tutti! Al stadio, e il pasto si le educa le nomme, che anche chi le ha giocato, alla fine del razzone! Il nome non me la ricorda più bene! Però, ha solo solo loro! Si chiama dottor, e il secca di amici! Guarda adesso, vanno con lì, e ci vedrai che il dottor posso! Un po' Agnese, un po' subito! Però, adesso, un po' vedo! Il lotto è l'acqua di mellù, eh! Oltre all'espagamento, presentano comunque i regali, un modo che, da subordinare un po', perché, non abbiamo capito, avere un po' del da su! Che ha saputo mio, Agnese? Qui ero qui, in un necapè! Grazie! Applausi! Grazie! Applausi! Applausi! Leggiamo un po' il dica benadenta qui in su, eh? Basta dentro, che qui poi c'è un quadrachino di pulpo, eh? Il riuso a pulpo. Eh? Eh? Ah! Ma il flunca benadenta! Ma il capo da sotto è proprio il tenuto in giusto. Ah, la pena meno! Sì! Perché io stupisco nella porta? Avanti! Buongiorno, avogato! Buongiorno! 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 Che sei? Mi sono finito alle parche a curare. Ho un po' pötzetta, eh? 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 La bordura! No! Non fia tu! Eh? Eh? La bordura! Eh? Eh? Si! Ma cosa cosa è che sai? Cosa? Però, c'è questo pochè! è un po' di nè, migra valuta l'euro è finita, ha pagato l'avvocato con la balina, come il coniglio, con i josti al porcet, e ha avuto un bel miliotto da mina, da c'è un nila. Ma no, ma coschini, ma coschini, però non mangio, ma per dopo un disaglio, se c'è la sua distoria. Vabbè, va bene, ma non si dice un po', non si, 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 perché amore aria, scusate. Ah, non, non si... Ah, devi dire il tuo abito perché non voglio che cercare la donna, ma chi ha di più l'euro è? Cosa deve avere più l'euro è? No, 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 no. Oh, ma il tuo nome è tu, no, no... Ah, ma c'è proprio il cuglio! Nè, ah, la toita! Ma, Cura, ma Ah, mi ha detto, no? No! Ma io l'ho capito! Mila dolla l'ho già potuto trovare! Ho capito? Teni un chino di un'amica perché ti vuoi sapere Se è un gattola come si deve Se è un gattolo più dici Se è un gattolo più delicato Però... Se senta bene Anche qui rocchi Ah, mi interessa! Si si, mi interessa! Bravo! Teni un tuo appartamento! Venite qui arriva bene Vedete più come va Se è giù! Non, non! Non bene! Buona tua! Le buone da fede a mangiare Oh, caro madonna! T'è roba in barca mare Gnagnanca pure da penneure in camisa T'è due ore mangetta delle robe in scatola Carmi in scatola Vivroni in scatola Merluci scatola Stammo di stare in scatola Perché dì la bella scatola di zekco scatola Più li viet mangiare roba come la sede L'occhio unio Ha sveglia Ruge me che dà E l'uomo Guardi una Senti attrape E l'uomo E l'uomo e il parabriso è spunto è meglio che guardo ma se è meglio ha l'eurezza ah no? e questo? è è è è è ed è è Ufff! 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 La bocca! Ufff! Ma costa che da già boba i costi! Ma che mia stupida vecchia si su? Da te? Ma stla qua niente può poti meno che... Fu il tuo Rodrigo! E ti che da creder troer a quella di va? Eh... Ecco! Ecco! L'assegno a me! Che farasò non meccirà! E proprio lui! Con la loggia negra dal tono brinco! Mi... Le pari con lì che senti qui in tolè! C'è il terro che va di diventare! No! Mi... Mi... Averrò che lui smacchi in galera! Con partà lì! Ecco perché! Ma... Adoro che c'è! Mh... 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 Ma io spulmone a far me giuro! E... Mh... Ma va subito di bene! Ma via via me! A tu... Ma dai! C'è la roba qui! La resta qui! Via me! Sì! Io... Vieni! Vieni! Mi... C'è un spartbol, padacchino rontocchi, n'y'a capo di parlai. C'è un sottotit sudà? C'è un filo abbaglia. Il è meglio che vai a cambiare la dudane. Sì, sì, ma proprio dai un bel cugino al dottor, a te che ho detto, bello, sì, la pace del signor di questa carta. Lo sì, a te il cavia. Renzo, cosa succede? Mi, mi, alla massa, alla massa che un scarro sdallo, ma che anche il diritto negli smissare in una faina nera e credo che fare bene il capitano del suo Paese. Ma guardate che se libera anche in bene una volta mi dici stenderanno, vuoi metterci anche tu al suo livello? E poi, se posso vedere che... E' il tuo Rodrigo! Tuo Rodrigo? Lo sapevo io! Stavattina l'ho visto e gli ho parlato! E' quella nuova! La rapire? Parlava di una cia! Sei tu Lucia! Sei tu che valeva la pia! Rapire? Si! E per sposarti adesso per te! Per sposarti! Per sposarti quella! E per fiera! Mi! Le mie famiglie! Ho una carità di tutto! Siiii! No 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 no! E' terribile! Dobbiamo pensare un piano per riprendere questo bambazio! State capi! Due! Tasi! Quinto si posta! No, non si posta! Bisogna andare in qualche posto! Ma dove? Ditto! Due! Prima! Carmi di fare scatate! Sì! La tua bozza! No no no! Secondo Zedto! Secondo! Parati minori di Santo D'Obo! No! Dove più dove! No no no! Terzo! Sii va bene! Terzo! Si! Chi l'unica roba da fè! L'è scappè! Si! Bravo Renzo! Esatto! Dove! Adoro! Dove! Ci sono! Dalla monacra di Botte! Un convento proprio di Botte! Vi do io la legge! Adesso preparatelo! Non vi ringraziate, è la mia missione, voi ne accompagnatevi, sono a strada. Comodi, comodi. Buon po' di altro eh, buon po' di altro! Buon po' di altro! Ma bene, siamo messi una pipa sia! No, mamma, io il convento non ci vado, io voglio sposare Renzo! Sì, sì, non piace, l'idea di Cristofano è buona, a far scappare il convento! No, in convento no! Ma Scella Lucia, dai, fatta la promessa, a scappare! Non vieni anche a me, eh! Piero, ho risolto il convento! A me ne ho vinto una roba che diceva sempre il mio povero figlio, che farò un matrimonio, le sei indetta, non sempre, e dicono, costacchino la Madonna, costacchino il Mahò, e la pagina delle racchiappone. per ovvero anche i due testimoni che sento! Sì, sì, ho già! E' un'altra grande motore dei due testimoni! Guarda, stiamo a fare con lì, io ne sono lì! E poi, a trovare un male perfetto, che se non c'è, nessuna stracchicciana, come la maniera da fare l'esercito! Eh, ma la mia metina, beh! Però, se tu adesso, che le fai che nessuno da fare il sogno, e che le cuore un po' addormentare, non ti aspetta in Italia, no? Ma, guarda, c'è un po' la palla al bacio, e non gastrasmi tu me da fuori! Tu me! Grazie! Applausi! Applausi! Grazie. Ma siete sicuri che è valido? Io voglio essere a posto con la coscienza, eh? Sì, Lucia, guarda, eh. Fai che scusate dopo. La ciappuma e scappone in briassa. Mi lavano così. Il canale va a me. Dipica. Dobbiamo tutti scappare stasera, che ci siamo fino a scusate. Sì, sì, Lucia, farò la paiana e la scuola che fai. Lucia, qual cosa vuoi scappare? Sicura roba chi l'aveva il reggio del rodello. Questo potrebbe, forse, fai curati che trovi il canale di me. Oh! E mi ha chiedeva la perfetta. Buongiorno, becchia. Oh, che bello incontro. Ah, sì, vi ho detto il gelato, caro. Ma sì, ha come da di quei cus per combinare un matrimonio. Oggi, spero che vai a tutto bene. Alcune di lingua tassi. Oh, ma la dica d'abord. Ah, sì, 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 sì. Alcune di lingua tassi in da quel paeschi che non parlano più. Alcune di che parlano. Incappare. E se evita. Oggi, per esempio, gli dicono che lei abbia una scusa perché aveva un coltello che non voleva. Che bastone! Ma che spomposi! Avvorevano me! Se l'aveva proprio sapere, mi, allora, si bagnava con una brutta fiora. Aveva un bel cotto, dove è il gatto e anche un bel cotto. E il fatto frantino avva fa incirchè come insomma, ha capito che lei so per lui. La guarda, ne? Quando sei una scelta avva fa incirchè al guido col che sta a San Rocco. che è un bel cotto. è un uomo che al sarei agli al castello, però al tema al famei fa so che che è la terra no. Però, aveva di capito che faceva tutto il copino e un odore da stalla che è un trezzo di rega. che è passato un po' da me. Vedi, anche in casa mia mamma e mi dì che una donna da di lì se non è la scusa al guadista. Al guadista. Oh figlio, ma come ha spero di da sì. All'è va, un po' più d'acqua. All'è va, anche un po' di casolata. All'è camminata tutta al sbassaggio e sienteva più sembrata che a te svegliati in occhio. E poi, aveva una buca e lei va tutta sbiccia. Il suo mamma mia niente aveva proprio città. Ma io sentito che ancora che è un po' di che è un po' di che è un bambino da ricola. Un po' di che si aiuta che è un po' di che è un po' di che è di che ha detto che mi sia un po' di che è un po' di sono illibata, e poi mi raccoglio la mia vita, ma si, per farla vedere anche la puletta. Ma capendo che tu, che esaguarda me, io ho due giorni, cammino e tre vecchie, ma si, che il meno a una, passi in tua sicurezza, e poi mi raccoglio la parola. Io, tu è grato, ma che non è bene, un attimo! Oh figlio! Vengo, vengo subito! Inizia Lucia! Io non sai che sono bastiti! Ho fatto di cantare d'accordo! Ho qua sempre a chi viene a chi, dal momento meno di qua! Scio! Questo è mio marito! Scio! Questo è mio marito! Faikilana! Fai groliche! Faiuto chiere! Bravi! Pravi! Bravo, bravo, bravo! Corrollo di Dietro! Corramento! Corrollo di Dietro! Perpetua! Perpetua! M Congress e I Nettova. Oh beh! Dove sei venuto! Quindi non potevo facciare! Ma non può essere ancora così! a cicerà è giureltà ma certo che gli aggrazioni a dove l'ho finto qui d'entà qui d'entà e ho spinto provato di avere buoni costa chi ne la paga Saria proprio una bella coppia, non si discute, ma che spuere, ma che non vivere, ma che finalmente vai cantare la coppia e finire con me stella. Ma che tu non la vai cantare da mia vita, ma lì avanti a che maniera, ma la gente che sapesse chi dice, ma cuglina dà a rubare un vero e tuoi prezzo. Ma che grana, che grana Lucia, adesso la sapete del paese. Ammina scappia per forza te. Si, si, Renzo scappia, però non possiamo prima passare da casa nostra a prendere la notte, dobbiamo andare via così senza niente. Ma si, Lucia non fa niente, basta che tu va a merda già. Ciao. Ciappia la paracca e trovassi in là, ne? E che il signor la vanno pure, ne? Ciao, Lucia. Ma mi occupa questa tenne, faccio vedere qui, qui? Ciao, Lucia, guarda che la mia piazza, ne? Mi ha detto che dita, però guarda che la mia piazza, è passato di buio. Sperto, Lucia, Roma, nostra parola è come ventare lunga. Speriamo di stare tranquilli e di stare a poco perché noi vogliamo poter guire e guire dal nostro paese, in mezzo, dalla nostra gente. Addio, addio cavalli di terra e rudo, esorgeti in mezzo ai prati ed elevate al cielo il vostro profuso alto, addio risai, grandi come l'hai, con la superficie coperta di litta, dove le gane e i ganchi sciatti aglietavano le pinotte estive con i loro romantici canti d'amore. Addio, 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 là, in fondo al paese, con il suo bel colpito pieno di otti e di gallini, dove è impossibile fare un pasto senza spattasciare qualche strumento. In casa dei miei giorni felici dove sogniamo per violenza, in casa tutta bianca, di fuori, di dentro, un diverso maggiore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora sono un nome amiciato suor di Giave, ma non è un nome suor Giave Trude, monaca di Monza, ma si è una buona, se non viate, i temi barbessi, adesso si, che viate, con i nostri barbessi! Si sa che siamo dentro la madre e madessa? Non fa subito la cuore! Ci siamo? Ma mica si fa subito la bocca eh! Accanto a una canzone un po' grasse dove da più là tipo all'osterior numero Ma capito? E le guarda va? La santa mia buona saluta! E si fa più dentro la più tantissima! Suocela! Ma come si chiama? La prendiamo sul nipè? La sbaglia buce! Però... Ma so che il canzone è pulito Ma ti accanto sempre nelle tucane Ma guarda i sui ventuli Candide Illibate Mi girano accanto A pensare duro a un bruacenza A che ne vedi un bruacenza adesso? Perché Se va circa anche mille La mia gioca è più da un bruacenza Ma quello non va E guarda In giù la casa mi andai finito Un romano Ha un dedito dal massavusco Per mettere i buchi Quindi va Questa Mangia di gran verso E di patate Caspita Che fagutà Se ora Si vedono le belle forme Ubbidienza Case E guarda in giù Se no Fallinus Mortificati Come dice il prego Sarzo in tuo scatolino Sta impassibile Far bella niente In casa Passare in un canulino E c'è Papà Un'erba 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 Quelli Le bevano Lascia Ma La fea Dice Di Pallavano Alle vere Proverbi Che Quanti V la frusta, i Paternoster diventano giusti! Ebbene, mi sono andato a fare la sfora, vedi in cura 9 e 20, in diventamento, una sfora lì, magari neanche più la socca un po', eheh, ma piasaria eh per lo sfoglio per me gli appartamenti privati! Cuculmente, a Vladisano Abus, io sono ancora integra, intatta, a marco bagnanni scena, guardi, a marco coi cuci, da naso, da drera, completa e abundante, la monaca di Monza le ha il gran completo, da sud e da fuori, proprio, spinta finita! Quando sei in servizio attivo all'asilo, in cusina, più maldad di me con sorella non aveva la cooperativa religiosa, tutta invidia e malissima scuoresca! a cui devono dicciare, ha una parola che la lascia con il suo, e subito una colonna alla misera, si si va, ma buietto, cattavano le dosi nella ferie, nemmeno le baglie di di Frosinone! avevano grammi! avevano grammi! aveva adesso una rabbia, che capri ha strumpato i fiduci! certo che loro avevano suci come una cucina! una volta, ha me fai un scherzo, quattro o più io, ha che fai un bisogno! e psss, 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 alla fai l'uscidere! ma si sapeva... ma quando c'entra il gheber, il fiore... la è ta' le... c'era ta' le... c'era un anno... è un anno... ehm... che trovi l'apè! li sai di qualche! se... si serve buschi... adesso buschi... però perché con il disgraziato manzò andavidre pari e gli ha il regnato con il suo padre immacolato lingua gesuita e melenosa all'epostura e giuda e il pala con i gnotti civili e forse i numeri che gli vogliono in gesi in pesce altro Gertrude aveva l'amante e gli non facevetevole ma sa che ti fregati se mi bevano bruci, eh? No? Una volta ancora che invece a cantare a me ho cantato Amami Alfredo e ben eh? Guarda a ti scaruslon che ti avevi dodo nella bargamina a piedi e va sempre il calore manzò 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 Lissander manzitò manzò oh che suora rustica ha l'ordinaria come il penucciato ha l'abbia più rapida dici sì, va da lì arrivi anche lui adesso oh che suora volgare ha l'espaccio come il pedigalino sì perché lui è qui ha la faccia il catrano e no, eh? mi parla certo mi intestirò come il mi aiaccia ma come il suo nome ha girato da pure per me un impeto ha l'effetto 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 è poco finto, eh? dormi tranquillo e asciutto in esnotte assorbe tutto per me ti vuoi dire a scappare a dos cambier una volta per il tuo paese ha su fine a stare pune perciò una banda al chieva di stronti lui stracma il sinolo che chiedono la vista la nostra mascona alle bucione ingrandissime taca banda fu la prada la sinfonia la forza del destino arrivo malato il duque lo fa e lui ha slasso scappare una nota falsa un coi cusco il duque lo fa ma non la truco e lui ha un sito faial l'accanto suona all'estrano il sinemone ma sul nostro ponte a te nel proprio stella forza del destino si quanto è pochino il burs fa la vista pasturato a giulica spresenta e dice giuro silenzio giusto a chi è la banda del silenzio che se la bufano d'annans è la bufata breve ma della cui parte la buf è la buf ah 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 però al burs ha le loro tutti e sa fare anche forme come dice il sole una volta questo mi andai finito un ricordo in mezzo di veci mi dice oh signor avete da fare come i fiolini anche sempre davvero in me una scurta con la roba e come i veci eh ti vai e poi gli altri mi avete da fare come i fiolini suora pipì pronto suora popò già e chi tu i miei dantini che ti roma via la capuna del cenerino d'oro un bel frigo una bella sbrusciata e aria alla luna mi veci in veci che gli dovi li abbinati più rinni ripetenati ma che era una luna si quindi tu hai un tetto ma e la mano. Ma hai detto che non la gustavi. Sai che? Altrunere! Al più, ma come Dio la mandato! Vieni qua Ricco! Dome! Dome! Allora, non mi ha spusato un'altra ricola. Ha spoggiato che lui con la testa su un braccio e come già per l'acqua. Ricco, Ricco, Ricco! Ricco, Dome! Ricco, Dome! Ad un certo momento assicurato un'altra piante. Ma hai, ma c'è quel che? E lui... E lui... ... 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